Ciao a tutti, io sono Sara e benvenuti in questo nuovo video. Abbiamo trovato una paillara. Che cos'è una paillara, Gabbia? Che bella. Vediamo dentro com'è fatta una tipica costruzione a secco, a muro secco, vuol dire che qua non c'è cemento, non c'è niente. Entriamo dentro, tenta non farti male. Che bella. Delle birre. Sembra un igloo, un igloo. Sì, qua ci metti i tuasciugamani e ci darmi dentro. La finestrina. Non è che cosa non sassi. È giusto, vieni via che è meglio, va. Sono fatta apposta comunque. La tic bica paillara. Aspetta che facciamo anche una foto. Bellissimo. In mezzo agli olivi. Guarda gli olivi. Gli olivi. Aranci saluta. Non mi prenderanno. Non ti prendo. Gli olivi salentini. Che servono questi fili? Eh, sono della corrente elettrica. Ad arrampicarsi. La paillara. Allora andiamo. Ti piace la paillara, allora? Uh-huh, andò. Allora andiamo. Grazie a tutti